Nasce un progetto di riqualificazione delle aree interne del Teatro Comunale di Teramo. Queste aree verranno dipinte dai ragazzi di autismo a Bruzzo Onlus, ragazzi con autismo e volontari, per valorizzare quelli che sono gli spazi di una struttura importante di Teramo come il Teatro Comunale e allo stesso tempo portare avanti quello che è un discorso di inserimento sociale e di inserimento lavorativo dei nostri ragazzi. i ragazzi potranno così vivere la città, vivere con gli artisti e allo stesso tempo promuovere quello che è un edificio, una struttura così importante affinché come diventi appunto un luogo simbolo, un luogo all'interno del quale si possa anche fare comunità oltre che cultura, perché la cultura rappresenta l'aspetto fondamentale per riuscire ad abbattere le barriere mentali. Le barriere mentali sono le barriere più ostiche e quelle fondamentali per riuscire a costituire una società inclusiva. Ci sarà la possibilità per i ragazzi con autismo di essere sempre più integrati all'interno della nostra città, avranno la possibilità di collaborare con degli artisti, con Carmine Di Giandomenico, per creare delle bellissime opere che poi abbelliranno il teatro. Ovviamente quella che è la mission di questa nostra consigliatura è quella dell'abolizione, dell'abbattimento di qualsiasi tipo di barriere, che sia architettonica, che sia del linguaggio, in questo caso della normalità, per far capire che sempre di più la normalità da un certo punto di vista non esiste, ognuno di noi ha delle peculiarità. In questo caso sfrutteremo la peculiarità di alcuni ragazzi nel fare delle opere e appunto nell'abbellire il teatro. Grazie a tutti.